Salve amici bentornati nel canale. Oggi andiamo a trapiantare le piantine di basilico in vaso. 15 giorni prima avevo seminato il basilico. Se non sapete come si fa, cliccate l'icona sopra che vi porterà direttamente al video. Io riconosco il momento di trapiantare quando la piantina ha raggiunto la seconda foglia. Mi munisco di vasi, vado a smuovere il terriccio del giardino e riempio i vasi stessi. Se non avete il terreno potete acquistarlo tranquillamente in farmacia agricola. Prima di continuare però vi voglio ricordare di iscrivervi al canale. Attivare la campanellina così da ricevere le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Prendo i vasi di semenzaio e delicatamente smuovere il terriccio. Magari aiutandomi con un piccolo forcone. Due sono i metodi che io uso per trapiantare il basilico. Ecco il primo. Una volta smosso il terriccio estraggo delicatamente le piantine. Con la mano faccio dei piccoli buchi. Immergo le piantine e ricopro di terra. Oppure uso il dito, faccio un buco, immergo la piantina fino alla foglia e ricopro di terra. Praticamente vado a trapiantare una piantina alla volta. Se nel vaso di terra trovo qualche pietra, la vado a togliere. Se noto che il gambo della piantina è sterile, allora metto due o tre piantine alla volta. Ed immergo radici e piantina dentro al buco che vado a fare con la mano. Facendo attenzione di pressare delicatamente il terreno intorno al gambo. Adesso passiamo al secondo metodo. Quello che usava la mia bisnonna, che è velocissimo. Immergo delicatamente la mano dentro al vaso di semenzaio e con le dita smuovo il terriccio. Estraggo la piantina munita di terra attorno alle radici. La immergo nell'altro vaso coprendola di terra fino alle foglie. La immergo nell'altro vaso coprendola di terra fino alle radici. Prendo il vaso, lo metto sul sottovaso e vado ad innaffiare mai sulle piante, bensì il laterale. Esattamente come vedete in video. Se mentre innaffio fuoriesce qualche piantina, la vado a piantare come ho fatto prima. Grazie. 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 Poi prendo i vasi e li metto nel posto a loro designati. Per fortificare la crescita, io li poso in un posto dove non prendono molto sole. Preferisco l'esposizione al sole solo la mattina. Quindi le posiziono a nord-est. Per i primi dieci giorni innaffio tutti i giorni, ma mai sulle foglie, ovvero sempre lateralmente. Ed ecco il basilico dopo dieci giorni. Bello, fortificato. Adesso innaffio un giorno sì e un giorno no. E sempre lateralmente, in modo che l'acqua non raggiunga le foglie. Ed ho avuto sempre un ottimo risultato. Il mio basilico è stato sempre vigoroso, forte, profumato. Fate la prova anche voi. Io uso piantanne parecchio, perché poi lo conservo per l'inverno, lo metto sott'ovio, oppure lo faccio essiccare. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.